continuiamo a parlare di venezia il carnevale il carnevale in realtà era un'orgia perché se tutti pensiamo il carnevale di venezia che bello le maschere in realtà era un'orgia avete visto il film eyes wide shut l'avete visto tu nicolò l'hai visto sì l'ho visto ecco e allora se l'avete visto sapete benissimo che mettere le maschere non è una buona idea infatti durante il carnevale a venezia era in sostanza un momento di libertà dove ognuno poteva fare quello che voleva quindi in sostanza potevi tradire tua moglie e tua moglie poteva tradire te ma molto di più potevi anche uccidere qualcuno e tutto si risolveva durante il carnevale in quanto la maschera copriva anche legalmente quindi per esempio se avessimo avuto il problema di putin semplicemente durante il carnevale ti mettevi la maschera lo ammazzavi e boom chi è stato ah quello con la maschera ti gira c'erano tutti con la maschera quindi non potevi sapere che era stato la stessa cosa se volevi uccidere la tua suocera o inchiappettare il fratello di tua moglie potevi fare quello che volevi e le maschere appunto c'era la famosa bauta che era una maschera con la quale potevi anche bere e mangiare che era usata anche dalle donne che appunto veniva usata per tradire il il partner e anche il marito era contento se la moglie si metteva la maschera perché almeno non tutta la città sapeva che anche lui era cornuto no e ai veneziani piaceva così tanto tradire la moglie che iniziarono a usare la bauta per tutto l'anno quindi insomma è un grande giro di corni in tutta venezia e c'era la maschera gnaga che serviva per identificare gli omosessuali quindi venivi questa bella gnocca vestita da donna però se aveva questa maschera che era a forma di musetto di gatto capivi che sotto c'era la sorpresina o sorpresona in base ai casi insomma poi c'era la maschera moretta che ho anche litigato nella mia città perché io la trovo una maschera molto molto maschilista e praticamente questa maschera si regge si tiene su con la bocca quindi più nell'ora con la bocca chiaramente non puoi parlare se ce l'hai in bocca e quindi serviva a realizzare il sogno di ogni uomo cioè tenere la donna zitta quindi tu con questa maschera addosso dovevi per forza stare zitta e secondo qualcuno era un gioco di seduzione in realtà era sempre per lo stesso motivo cioè che i mariti non volevano che si sapesse in giro che le mogli li cornificavano proprio era anche molto utile perché per esempio quando dovevano portare le cortigiane a trovare le sorelle e le suore in convento per non farci care le suore perché se le cortigiane parlavano tantissimo bla 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 allora magari la cortigiana avrebbe detto alla sorella e la suora che non poteva uscire che era costretta stare in convento sai ieri ho fatto stesso tutto il giorno mi hanno anche pagata e siccome la suora si sarebbe strappata al velo dalla rabbia gli mettevano questa maschera moretta così non potevano parlare e quindi il problema era risolto insomma il carnevale di venezia era una grande orgia ora le le maschere le appendiamo al muro appunto perché tanto siamo tutti corruti e lo sappiamo ok allora quanti minuti ecco tre minuti e mezzo ok allora parliamo dell'acqua di venezia adesso l'acqua di venezia perché non tutti sanno che l'acqua di venezia piena di merda sì siamo onesti è così in quanto il passato proprio le fogne le tubazioni si scaricavano nell'acqua e in più anche proprio si faceva la pipì nell'acqua si faceva il pipì nell'acqua anche la cacca e mia mamma quando era bambina faceva il bagno a venezia forse da questo capisci parte della personalità di mia mamma comunque adesso non si può più fare è vietato il bagno sappiatelo per i turisti che i turisti si tuffano sempre in acqua a venezia e c'è sempre queste multe questi scandali secondo me sono anche fin troppo coraggiosi perché insomma per avere il coraggio di fare il bagno in quell'acqua verde con le pantegane io li ammiro sinceramente quindi se volete fare il bagno a venezia io vi appoggio pienamente anche adesso chiaramente le fognature non scaricano più nell'acqua però comunque i tubi sono un po' rotti non siamo più bravissimi queste cose quindi c'è un altissima percentuale di materiale diciamo organico insomma di merda nell'acqua a venezia ed è per questo motivo che non è consigliabile fare il bagno perché puoi prendere la leptospirosi che è una malattia che c'è praticamente solo a venezia a venezia abbiamo anche delle pantegane enormi e abbiamo anche i pesci con tre occhi infatti vicino c'è marghera forse non lo sapete però oltre ad avere la città più brutta del mondo mestre abbiamo anche la città più inquinata del mondo che è marghera a due passi da mestre ed è per questo che appunto abbiamo delle vongole giganti che nessuno può mangiare però ci sono i cinesi che vanno a prenderle e sono tipo grandi così e poi ce le spacciano per cozze, vongole asiatiche in realtà sono semplicemente di marghera e sono grandi perché sono radioattive quindi mi raccomando se andate dai cinesi a mestre non vi fidate se le cozze superano questa dimensione va bene allora noi abbiamo tutta questa merda nell'acqua però come sapete abbiamo anche la quadra che ora è parzialmente risolta dal mose ma insomma neanche più di tanto perché per alzare il mose servono 330 mila euro quindi non è che lo alziamo molto spesso quindi c'è questa acqua piena di merda che puzza di merda verde che viene su viene su viene su io andavo al superiore a scuola e immaginatevi avevo questi stivaloni da pescatore anche un po sexy quelli verdi tu camminavi 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 fino a quando io sono anche bassa quindi per me era anche più facile perché essendo bassa l'acqua arriva prima a un certo punto ti entrava l'acqua dentro questi stivali e capivi che era la merda e l'alectospirosi che entrava dentro ai tuoi piedi ma c'è qualcosa ancora di peggio i sacchettini che vengono per i turisti che praticamente quelli hanno già il buco cioè si divertono i veneziani o i marocchini che li vendono perché appunto compri questi sacchetti per difendere i tuoi piedi dalla merda o della qualta tu li metti e sono già bucati e quindi Venezia è la città più bella del mondo però è anche la più puzzoletta ecco diciamolo ok e quindi concludiamo parlando della peste parliamo della peste sì perché voi dovete sapere che a venezia abbiamo avuto due volte la peste che non è assolutamente paragonabile al covid perché nella peste che ci fu nel 1576 nel 1630 morirono su 140 mila persone 50 mila persone un terzo della popolazione caputù immaginatevi praticamente una persona su tre è morta a me pare che col covid sia andato un po meglio no perché ci sono tanti cabarettisti tanti cabarettisti qui proprio perché siamo sopravvissuti quasi tutti e come vedete a praga riuscire a affittare una casa è quasi possibile perché siamo troppi a praga no quindi in realtà la peste fu molto molto peggio del covid il motivo è che la peste non derivava da un virus ma derivava da un batterio e i batteri sono molto peggio perché sono molto più violenti però derivano dalla sporcizia infatti venezia appunto non è una città molto famosa per essere pulita per esempio il famoso casanova che conoscete tutti l'uomo che conquistava tutte le donne a venezia non era famoso per essere profumato puzzava da morire perché a venezia se ci si lavava una volta al mese era già un miracolo e quindi c'erano queste pantegane queste pulci questi piccioni che ci sono tuttora e quindi la peste si diffuse però malgrado fosse così mortale il governo veneziano il doge deciso di tenere tutto aperto perché ci teneva l'economia ci teneva il turismo quindi io dico se per caso arriva un altro virus un altro covid eccetera la variante della variante del covid io propongo assolutamente di avere un doge io voglio il ritorno della serenissima voglio che ci sia qualcuno come il doge a comandare così terrà tutto aperto ma oltre a questo avevamo queste maschere bellissime non so se avete presente il dottore della peste che sono decisamente meglio delle mascherine infatti ancora adesso ci sono dei gruppi di musica punk rock che usano questa maschera il dottore della peste insomma noi eravamo molto più creativi e poi durante la peste abbiamo creato due bellissime chiese il redentore e la basilica della salute e abbiamo fatto questa fighissima festa il redentore con i fuochi d'artificio per festeggiare invece noi dopo il lockdown abbiamo fatto la guerra abbiamo aumentato le bollette quindi io mi auspico il ritorno della serenissima viva la serenissima sono orgogliosa di essere veneziana ciao ciao a tutti da francesca